Quest'anno a Vibo Valenza il Natale è più festoso. Non solo il Comune e l'Associazione hanno fatta gara per rendere speciali queste feste, ma anche la Camera di Commercio di Vibo Valenza, che è appena stata accorpata a quella di Catanzaro e di Crotone, ha voluto contribuire affinché questo fine anno sia indimenticabile. Natale Camera Insieme è il titolo di una serie di iniziative già partite lo scorso 20 dicembre presso la sede della Camera di Commercio Museo Limen, con la prima iniziativa Guitars in Concert. Quindi per restare in tema musicale il prossimo appuntamento sarà il 26 dicembre alle 17.30 con il Coro di Natale e il 30 dicembre alle 17 con il Quartetto Sax, entrambi a cura del Liceo Vito Capialbi, con esibizioni dell'orchestra e dei gruppi musicali composti dagli stessi studenti. Intanto questa sera in Piazza Diez suonerà nei Black Mamba Funky Project e il 28 dicembre la Wisdom Drums Band. Inoltre, sempre al Valenzianum, è prevista l'apertura straordinaria del Museo Limen, il 25 dicembre il giorno di Natale, nelle ore pomeridiane dalle 16.30 alle 20, e il 26 dicembre Santo Stefano per l'intera giornata, dalla mattina alle 10.30 alle 13, e il pomeriggio dalle 16.30 alle 20. Un appuntamento, quello con Limen, che non si rinnovava ormai da tanti anni, ma che i vibonesi ricordano con affetto. I visitatori avranno modo di ammirare le opere d'arte contemporanea di artisti nazionale e internazionale che nel corso degli anni hanno arricchito la collezione di opere d'arte del lente camerale e hanno reso possibile l'istituzione museale di rango regionale.